Tutti in sella per la diciannovesima edizione del Giro del Gran Ducato, che quest'anno varca i confini della regione. Da 12 marzo al 24 settembre i ciclisti affronteranno nove prove in giro per la Toscana, la Romagna e il Lazio, con cinque prove agonistiche e quattro non agonistiche. La Toscana è da sempre terra di ciclismo e questo Giro del Gran Ducato rappresenta un po' l'emblema dei valori che attraverso il ciclismo la Toscana dai tempi di Cino Bartali ha sempre espresso. È tutto sbagliato, è tutto da rifare, ma una grande passione, una grande voglia attraverso lo sport di trasmettere ai giovani i migliori valori. La prima prova sarà alla Gran Fondo dell'Avia, Campagnano di Roma. Poi le biciclette passeranno per Volterra, Pomarance, Colle Valdelsa, Castelnuovo Berardenga, Capannori, Bagno di Romagna, Galluzzo e San Mignato. Un lungo percorso cicloturistico che... Diventa un vanto fondamentalmente per la Toscana, per i nostri territori. Era doveroso il risalto della Valenza regionale per quello che è l'insieme di una serie di attività agonistiche, cicloturistiche che sono veramente fondamentali per la promozione anche del nostro territorio, per la bellezza delle strade toscane, del nostro paesaggio. Il Giro del Gran Ducato di Toscana renderà omaggio anche ai due campioni del mondo che la nostra regione può vantare. Le Gran Fondo di Capannori e Pomarance saranno infatti intitolate a Mario Cipollini e Paolo Bettini.